L'invito ai soggetti che hanno il potere decisionale di ragionare e valutare la realizzazione di un invaso va in questa direzione. Noi anno scorso abbiamo ritenuto doveroso commissionare uno studio a dei professionisti locali proprio per vedere se si poteva individuare uno dei siti potenzialmente utili. E loro hanno fatto un buonissimo lavoro in tempi anche molto rapidi e hanno fatto uno screening dei siti potenziali. Ma a noi questo interessa relativamente poco anche perché il nostro voleva essere solo un contributo, uno stimolo alla valutazione e alla decisione. Riteniamo però che un invaso sia un elemento fondamentale per tanti motivi. Un invaso sicuramente, soprattutto realizzato alle aree interne, non va sicuramente a deturpare una vallata o un territorio ma anzi lo arricchise. Nella testimonianza tutti i siti a livello nazionale che sono ricchi di bacini artificiali i quali producono beneficio alla collettività locale. Basti pensare ai ridracoli ma anche tutto il Trentino dove è ricchissimo di bacini artificiali, dove viene sviluppato turismo, dove l'aspetto economico e sociale della collettività che risiede ovviamente si sviluppa in modo molto positivo, quindi non è un depoperamento di un territorio ma invece è un arricchimento. Basti solo pensare che realizzare un invaso, parliamo di investimenti che passano i 100 milioni, i 150 milioni di euro e quindi cosa significa in un territorio per esempio di un'area interna? Ribaltare 150 milioni di investimento significa produrre ricchezza. Sicuramente produce benefici ambientali importanti, che non sono solo quello dell'approvvigionamento idrico ma sicuramente beneficio ambientale per l'alaminazione delle piene, produzione di energia elettrica pulita, sicuramente è l'approvvigionamento idrico perché comunque è uno dei temi principali ma anche un contributo, questo lo dico perché qualcuno solleva il problema dell'aspetto ambientale, avere disponibilità a monte di tanta acqua significa anche avere dell'acqua da poter rilasciare nei fiumi quando le portate sono veramente dimagra, come in questo momento, e invece di ridurre il minimo del flusso vitale del fiume ovviamente abbiamo la possibilità di rilasciare acqua. Quindi direi che i benefici ambientali sono veramente molteplici e ovviamente, non lo so, io non voglio fare polemica ma quando sento aspetti ambientalisti che dicono che l'alternativa è dessalinizzare l'acqua del mare e mi fa un po' sorridere perché contraddice tutto quello che l'agenda ONU, tutto quello che il mondo ci chiede perché chiaramente non ha veramente senso non captare l'acqua che piove e che dè acqua dolce dal cielo, lasciarla andare al mare e poi pensare di dessalinizzarla e riportarla in montagna. Concludo sul fatto che un invaso ovviamente richiede, e questo ci tengo a sottolineare, quello che Marche Multiservizi ha presentato non è un progetto come qualcuno scrive sui giornali o solleva in giro. È un contributo che tende a individuare dei siti potenzialmente utili, ma vorrei evidenziare il fatto che comunque per realizzare un invaso richiede una progettualità, una progettazione che vale qualche anno di lavoro, richiede una molteplicità di professionalità e competenze di alto livello e ovviamente richiede, questo lo dico perché così si chiarisce anche un aspetto importante, uno degli aspetti fondamentali nella progettazione di una diga è l'aspetto della valutazione di impatto ambientale. Grazie.